Bella di papà, già te l'ho detto, sei giovane, devi andare a scuola, devi studiare. Questo provino te lo scordi. Ma dai papà, fammelo fare. No, la mia risposta è no. Va bene? E su? Grazie, le faremo sapere. Grazie mille, arrivederci. Oh, niente male questi dati che hanno tanti mascherati. No, direi che è geniale, così non siamo condizionati dall'aspetto fisico. Adesso tocca a lei. Vai con la base. Stop! A me invece vuole poco a riconoscere una bella voce, eh? Ha studiato canto all'Accademia Artisti. Come mia figlia. Fai il contratto a questa, subito. Sai che il contratto? Ma la masseremo, vince. Ma proprio senza problemi. Oscar? Sì? Tu stai a mangiare? Mi senti a tratti. Stai in trattoria, per forza. Dimmi, su. Scopri l'artista che è in te.